alla fine ci sei riuscita di girare e lo stai raccontando, quindi dopo un po' di tempo molli lì e vai su Pornhub. Sì. Fai le due cose insieme o molli uno e vai di là? Allora, per un periodo Stefano decide di tornare al lavoro perché non eravamo ancora sicuri di voler fare questo, insomma, per tanti anni, quindi lui torna al lavoro, io poi ho ripreso psicologia, quindi niente, lui ricomincia a lavorare, lavora nei beni culturali, io ricomincio a studiare e nel frattempo porta avanti la webcam su Cam4 e iniziamo però poi a fine di quell'anno, lui inizia a caricare i nostri video perché noi abbiamo iniziato a registrare dei video interi da vendere a pacchetti dentro in webcam, potevi vendere sulla base appunto di tips, degli oggetti magari, o semplicemente tips tramite chat, dei file. Quindi tu recavi tutto quello che andava in live in quel momento? No, 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 quello che era live restava live, noi facevamo proprio già una produzione a tutti gli effetti. Quindi avrei già cominciato a cimentarti nella produzione, quindi fuori dalle live giravi cose. Ehm.